ben trovati a questo secondo breve pannello di questo trittico abbiamo visto seppure ovviamente in forma appena accennata a come la malattia sia presentata da Oliver Sacks come una sorta di ruzione di un'antropologia aliena all'interno diciamo della normalità, un modo diverso di essere al mondo, un modo diverso di essere uomo e la medicina che deve cercare di correggere questa alienità spesso andando incontro come dire a dei successi ma anche a delle sconfitte, narrativamente si direbbe a dei finali non a un non happy end come abbiamo visto nel caso dello zio Tobi. C'è un altro ambito che mi interessava condividere con voi in queste riflessioni sempre dal libro di Oliver Sacks ogni cosa al suo posto ed è quello della natura. Inutile fare troppa retorica sappiamo benissimo in questo periodo quanto diciamo un rapporto errato e sbagliato con la natura sia abbia una grossa componente in tutto quello che è successo, che sta accadendo e che probabilmente accadrà ancora. Molti invocano una rivoluzione ecologica, tutta una serie di termini e di espressioni che mastichiamo ogni giorno ci raccontano un rapporto sbagliato con la natura. Proviamo a ricordarne qualcuno, cambiamento climatico, riscaldamento globale, desertificazione, scioglimento dei ghiacciai, ma soprattutto quello che adesso su cui bisogna puntare di più l'attenzione è proprio diciamo il fatto che l'uomo ha invaso e distrutto gli equilibri e l'autoregolamentazione di habitat naturali, favorendo così quel triste fenomeno che è la zoonosi, cioè la trasmissione di virus, di malattie virali dagli animali selvatici all'uomo, favorita per di più anche da tutto l'inquinamento. Allora ripensare, proprio resettare da capo il rapporto con la natura, bene al di là, adesso che siamo reclusi in casa che non possiamo praticare sport andando a correre nei parchi, andando a fare passeggiate o picnic, abbiamo un modo e tempo di ripensare questo rapporto. Allora una riflessione molto bella che io ho trovato in questo libro di Oliver Sacks si intitola Perché abbiamo bisogno di giardini. Scrive Oliver Sacks Come scrittore trovo che i giardini siano essenziali per il processo creativo. Come medico ogni volta che è possibile porto i miei pazienti in un giardino. Tutti abbiamo avuto l'esperienza di vagabondare in un giardino rigoglioso o in un deserto senza tempo, di camminare lungo le sponde di un fiume o di un oceano, o di avampicarci su una montagna e di trovarci al tempo stesso rasserenati ed invigoriti, mentalmente coinvolti, rigenerati nel corpo e nello spirito. L'importanza di questi stati fisiologici per la salute dell'individuo e della comunità è fondamentale di vasta portata. In 40 anni di esercizio della medicina ho riscontrato che solo due tipi di terapia non farmacologica sono di vitale importanza per i pazienti con neuropatologie croniche, la musica e i giardini. Ecco direi che questo è un pezzo proprio da incorniciare, da avere continuamente sotto gli occhi. Vediamo intanto lo sdoppiamento che ha sempre Oliver Stacks, la stratificazione di personalità diverse. Come uomo, lui parla sempre come uomo, come medico, come scienziato, come appassionato. Trovo veramente di una bellezza incredibile questa definizione della natura come terapia non farmacologica. Ecco, questo può essere un modo veramente per ripensare da capo il nostro rapporto con la natura. Per quanto riguarda invece la musica, vi rimando a un altro testo che magari conoscete, ma è il caso di riprenderlo in mano in questo periodo, sempre di Oliver Sacks, che si chiama Musicofilia e che racconta molti casi clinici in cui la musica ha avuto un ruolo veramente terapeutico, anche se magari sempre solo per momenti di tregua e per brevi momenti nell'evoluzione della malattia di molti pazienti. In questo pezzo Oliver Sacks racconta anche della sua passione personale per i giardini, per gli orti botanici. Ricorda per esempio quello di Padova, da noi che ha visitato, dove c'è la famosa palma a cui Goethe si ispirò per scrivere il suo libro sulla metamorfosi delle piante e poi racconta una serie di piccoli capoversi in cui parla, ricorda alcuni casi in cui il rapporto con la natura e i suoi casi medici in cui il rapporto con la natura per i suoi pazienti è stato fondamentale. Volevo leggervi ancora alcune citazioni, almeno un paio. Non saprei dire esattamente in che modo la natura eserciti i suoi effetti calmanti e organizzatori sul nostro cervello. Ho tuttavia constatato i poteri rigeneranti e risanatori della natura e dei giardini nei miei pazienti, anche in quelli profondamente invalidati dal punto di vista neurologico. In molti casi i giardini e la natura sono più potenti di qualsiasi farmaco. Ecco, allora guardate come veramente, cioè quanto deve essere forte, diciamo, la riconsiderazione di un rapporto totalmente diverso con la natura, un rapporto in cui noi uomini dobbiamo sentirci parte della natura e non padroni e dominatori o sfruttatori della natura. Volevo concludere con la conclusione che fa Oliver Sacks in questo pezzo perché ovviamente lui parla proprio qui di una parola che mi piacerebbe consegnarvi in queste in queste riflessioni, una parola molto bella che è ortofilia, ci consegna questo termine. È chiaro che la natura fa appello a qualcosa di profondamente radicato in noi. La biofilia, l'amore per la natura e gli esseri viventi, è una componente essenziale della condizione umana. L'ortofilia, il desiderio di interagire con essa, di gestirla e di prendersene cura, è profondamente radicata in noi. Il ruolo della natura nella salute e nella guarigione diventa ancora più essenziale per chi lavora a lungo in uffici senza finestre, per chi vive in quartieri urbani senza accesso a spazi verdi, per i bambini che frequentano scuole cittadine o per chi si trova ricoverato in istituzioni come le case di riposo. Gli effetti esercitati dalla natura sulla salute non sono soltanto spirituali ed emozionali ma anche fisici e neurologici, non ho alcun dubbio, che riflettano cambiamenti profondi nella fisiologia del cervello e forse anche nella sua struttura. Ecco, non c'è bisogno di commentare questo pezzo, mi sembra che calzi a pennello rispetto alle riflessioni che siamo tenuti a fare in questo momento che stiamo vivendo, anche magari partendo da situazioni minime, ci colpiscono quelle erbe che vediamo rispuntare dalle connessure delle lastre, delle pietre stradali che non vedevamo da tanto tempo e magari abbiamo solo qualche pianta sul nostro balcone con cui rapportarci in questo momento rispetto alla natura, ma anche quello può essere importante. Ricordando il Beth Abraham, che è l'ospedale del Bronx dove Oliver Sacks ha lavorato con i pazienti che ha risvegliato dall'encefalite letargica, lui dice questo, vi voglio salutare con questo pensiero. Quando poi si espanse diventando un'istituzione con 500 posti letto, inghiottì la maggior parte del terreno circostante, conservando però un patio centrale pieno di piante in vaso che rimane è fondamentale per i ricoverati. Ci sono anche aiuole rialzate in modo che i pazienti ciechi possano toccare e odorare le piante e quelli su una sedia a rotelle riescano ad avere con esse un contatto diretto. Buona ortofilia a tutti! Grazie a tutti!